Ciao, vi faccio partire da terra, così siete felici. Lo faccio opposta? No, questo cosa sarà mai? Un biciclettino, volete partire da giù? Oggi sono buona, vi faccio partire anche da qui, guardate, c'è il trucco, anche le mali sotto i glutei, vi faccio mettere, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, cinque, quattro, tre, due, uno, mi alzo su, sui gomiti, continuo a pedalare, in qualche modo vi devo far scaldare, cinque, sei, sette, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, mi alzo i piedi, qui, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 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 sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno, schiena a terra, piedi a terra, scendo a destra, salgo, sinistra, centro, destra, centro, sinistra, centro, destra, uno, centro, due, centro, tre, centro, quattro, centro, cinque, centro, sei, centra, centro, sette, centro, otto, l'ultimo, mi fermo al centro, apri i piedi, ponte inverso, su e giù, uno, due, più alto possibile, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, appoggio le mani, sotto i glutei, alzo il ponte, mantengo, ok, lascio e porto le ginocchia al petto, lascio, allora adesso, mantenendo le ginocchia piegate, appoggio i talloni a terra e poi porto le ginocchia al petto, appoggio 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 le gin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango. Da qui, roll up, su, e ritorno, tenetevi abbracciati qui, scendo, roll up, è divertentissimo! E, su, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e rimango giù, rimango giù, questa volta porto le ginocchia al tetto. Ritorno con i piedi a terra, braccia larghe, questa volta incrocio una gamba sull'altra, scendo dalla parte della gamba incrociata e giro la testa dalla parte opposta. Centro, scrocio e incrocio, giù, testa. Centro, scrocio, mantenendo un piede a terra, porto una gamba al petto, la stendo, la tengo e piedo a martello. Mantenendo la gamba dritta in alto, perpendicolare al terreno, ruoto la caviglia. Prima in senso orario. Mantengo la punta flessa, prendo il polpaccio e cerco di tirare il più possibile la gamba al petto. Ok, lascio, piego, riporto il petto e scendo. Cambio gamba, gamba al petto, stendo dritta e piede a martello. Ruoto in senso orario. E vado in senso antiorario. Mantengo la punta flessa, prendo il polpaccio e cerco di avvicinare al petto la gamba. Ok, la ritiego al petto. E questa volta l'allungo a terra. Mi giro sul fianco della gamba che abbiamo appena allungato. Prendo il piede. Le ginocchia rimangono parallele. Ora porto indietro e un pochettino in alto, poco poco, il ginocchio della gamba che stiamo stracciando. Ok, lascio e questa volta porto in avanti la gamba. Lascio, ruoto dalla parte opposta, prendo il ginocchio, prendo il piede, piego il ginocchio, stacco forte indietro e aumento la flessione. Ok, lascio, porto in avanti la gamba. Allungo, rirottolo, piego le gambe. E ritorno, su. Da qui. Ci sediamo. Piede, terra. No, allargo un pochettino. Facciamo ancora un po' di mobilità delle anche. Scendo. Centro. Centro. Cambio. Centro. Cambio. Centro. Cambio. Qui. Cambio. Centro. Cambio. Cambio. Centro. Qui. Centro. Cambio. L'ultimi. Due. Qui. Cambio. Centro. E volo anche indietro. No, anche la chicca c'è riuscita, eh. Anche la Patrizia c'è riuscita. Anche la Greta, secondo me. Non l'ho vista bene, però. Ce l'hai fatta. Ruota all'interno i piedi. Mento il petto. Anche se avessimo fatto step, avreste avuto le guance rosse. Le guance. Che c'è il petto. Anche la patente? E il petto padova.